Il senatore ha un tempo più ampio perché l'ha chiesto ex articolo 89 del regolamento a facoltà di parlare. Grazie, grazie Presidente, Governo, colleghi. Tra le finalità di questo disegno di legge, quella che viene indicata come preminente è di accelerare i tempi della giustizia penale. Tra i principali strumenti, anche di questa riforma, come di quella civile che abbiamo discusso ieri, viene individuato l'Ufficio per il processo, al quale vengono destinati ben 2 miliardi e 342 milioni di euro, cioè la quasi totalità dei fondi stanziati per la giustizia dal PNRR. Devo ribadire ancora una volta tutte le perplessità mie e di Fratelli d'Italia nei confronti di questa scelta. La giustizia, quella penale come quella civile, ha bisogno di ben altro, ha bisogno di riforme strutturali, ha bisogno di colmare i vuoti paurosi negli organici dei magistrati, ne mancano oltre 600, e i vuoti del personale amministrativo che, come sappiamo, è ancora più ampio. Ha bisogno di ingenti investimenti per la digitalizzazione, e per fortuna questi sono previsti, ma anche per la migliore organizzazione degli uffici e in molte parti d'Italia per la modernizzazione dei palazzi di giustizia, troppi ancora in condizioni precarie. Per non parlare dell'edilizia carceraria, perché il sovraffollamento carcerario si risolve costruendo nuove carceri e nuovi padiglioni, non abrogando di fatto la pena detentiva e liberando i delinquenti, come fatte purtroppo con questo disegno di legge, né con la cosiddetta vigilanza dinamica, che ha consegnato il controllo delle carceri alla criminalità organizzata. L'ufficio per il processo non servirà ad abbreviare i tempi dei processi. Lo sa chiunque abbia un po' di pratica giudiziaria. Tantomeno servirà a smaltire l'arretrato. Per questo era molto meglio ricorrere al reclutamento straordinario di avvocati con lunga esperienza professionale e di magistrati in quescenza, cui affidare all'ecisione dei procedimenti con maggiore anzianità di ruolo e minore complessità. E soprattutto si poteva e si doveva valorizzare la professionalità di migliaia di giudici onorari, stabilizzandoli, riconoscendo loro i diritti che uno Stato di diritto riconosce a ogni lavoratore e impegnandoli nella definizione dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico. Invece li avete mortificati ancora e continuate a mortificarli, dimenticando che senza il loro lavoro, semplicemente, la giustizia italiana avrebbe già dichiarato fallimento. Ciò premesso e ribadito che è una mera illusione credere di risolvere problemi strutturali con semplici riforme di procedura fossero anche le più intelligenti e queste per gran parte non lo sono. Non nego che alcune soluzioni contenute in questo senso di legge siano positive, non lo nego, a cominciare ad esempio dal processo penale telematico, anche se sarebbe stato necessario prevedere una maggiore gradualità nella transizione alla obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità digitali per il deposito di atti e di documenti. Così come non nego che sia positiva la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato, in modo che solo la prima notifica e la citazione a giudizio, in primo e secondo grado, debbano avvenire all'indagato o all'imputato, mentre tutte le altre possono avvenire al difensore. O ancora è positivo l'ampliamento del regime di procedibilità acquerela e ancora l'intenzione di restituire effettività alla pena pecuniaria, che oggi esiste solo sulla carta, visto che oscilla negli anni tra l'1 e il 2%, con una perdita annuale per l'erario di circa un miliardo di euro, cioè, cari colleghi, quasi il 50% dell'intero fondo stanziato dal PNRR per la giustizia, in un solo anno. Ma a parte queste e poche altre misure positive, ce ne sono molte altre, troppe, che Fratelli d'Italia non può condividere e giudica molto pericolose. La più grave di tutte è la riforma della prescrizione e l'introduzione della improcedibilità in appello e cassazione attraverso il nuovo articolo 344 bis, con una commistione illogica e irragionevole tra un istituto di diritto sostanziale come la prescrizione e uno di diritto processuale come l'improcedibilità. Un evidente compromesso tra le forze politiche che compongono questa spurria maggioranza, che però, ha prodotto un mostro giuridico. Dovevate avere il coraggio di abrogare la riforma Bonafede. Questa era la soluzione. Una riforma che ha bloccato la prescrizione dalla sentenza di primo grado, non solo in caso di condanna, ma addirittura di assoluzione. E dovevate avere il coraggio di tornare al sistema previgente, magari aumentando i termini per determinati reati di maggior allarme o di complesso accertamento. Di questo si poteva e si doveva discutere. La soluzione di confermare la riforma Bonafede e poi limitarne l'efficacia con il correttivo dell'improcedibilità non ha invece alcun senso. Certamente non contribuirà ad abbreviare i tempi del processo di primo grado. Infatti, basti pensare che il giudice saprà di avere a propria disposizione l'intero termine di prescrizione del reato, che come sappiamo non è affatto breve. Ad esempio, sette anni e mezzo per un semplice furto o per una truffa, dodici anni e mezzo per corruzione, tredici anni e un mese per peculato. Il giudice di primo grado li utilizzerà tutti. Tanto sa benissimo che in ogni caso con la sentenza di primo grado la prescrizione si bloccherà e in appello si applicherà il diverso istituto dell'improcedibilità, che non terrà conto di quanto tempo è stato impegnato a decidere il primo grado. Risultato prevedibile, una dilatazione irragionevole dei tempi, non una loro abbreviazione. Con tanti saluti all'articolo 111 della Costituzione e alla ragionevole durata del processo. Altrettanto gravi le conseguenze a carico delle persone offese. Caro sottosegretario, forse non avete ragionato su questo. Le persone offese che si sono costituito parte civile per ottenere il risarcimento del danno, quando l'improcedibilità verrà dichiarata in appello in Cassazione, vedranno anche la paralisi della loro azione in sede civile. L'azione verrà trasferita al giudice civile competente per valore, prevede la vostra riforma. A differenza di quanto prevede oggi l'articolo 578, che infatti abrogate in questa parte, che ora è in vigore, che impone al giudice penale, sia di appello che di Cassazione, che dichiari l'estinzione del reato, di accertare comunque il fatto ai fini degli effetti civili. Con la modifica che voi apportate a questa norma, la decisione sarà invece demandata al giudice civile, con ulteriore allungamento dei tempi della decisione e con problemi di non facile soluzione. Non ho trovato soluzione nel vostro disegno di legge. Atteso il diverso regime probatorio vigente in sede penale rispetto a quello vigente in sede civile. Faccio solo due esempi. La deposizione del danneggiato non fa prova nel processo civile, mentre fra prova nel processo penale. Nel processo civile non ci sono limitazioni legali di prova, mentre ci sono nel processo civile, ad esempio in materia di patti aggiunti ai contratti, ad esempio di pagamento e così via. Come si regolerà il giudice civile a questo punto? Faccio l'esempio di un processo per truffa. Come si regolerà il giudice civile? Riterrà valide le prove assunte in sede penale in violazione dei limiti imposti invece in sede civile oppure no? Non l'avete regolato questo aspetto e mi preoccupa particolarmente. Altra norma molto pericolosa è quella contenuta nella lettera I,9 dell'articolo 1, in base alla quale le procure della Repubblica potranno e dovranno individuare criteri per selezionare quali notizie di reato trattare con precedenza, altro che la discrezionalità di oggi. Questa sarà la vera discrezionalità, anche se nell'ambito di criteri generali dettati con legge del Parlamento. criteri generali dettati con legge del Parlamento. Il rischio, spero di sbagliarmi, ma il rischio di discrezionalità nella scelta di quali reati perseguire e quali abbandonare all'oblio e alla prescrizione è evidente. Una tale discrezionalità si pone in palese contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 12 della Costituzione. E attenzione, l'articolo 12 della Costituzione è una diretta esplicazione dell'articolo 3, in base al quale la legge è uguale per tutti. Tutti siamo uguali davanti alla legge. Questa norma viola questo elementare, fondamentale principio della nostra Costituzione. Concedere un tale potere discrezionale alle procure rappresenta pertanto una palese incostituzionalità e rischia di creare differenze inammissibili da territorio a territorio. E non è inverosimile immaginare addirittura una sorta di turismo criminale con i delinquenti che si spostano da territorio a territorio in base alla loro specializzazione, si fa per dire, criminale, scegliendo quel territorio in cui possono contare sulla sostanziale immunità. E a nulla vale obiettare che già adesso l'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che nella formazione dei ruoli d'udienza si tenga conto di determinati criteri di priorità. Un conto, infatti, è stabilire quale dibattimento abbia la precedenza rispetto ad altri che dovranno comunque tenersi e tutt'altro conto è sancire per legge quali reati le procure debbano direttamente ignorare evitando di indagare su di essi. Vado avanti. Ancora viola certamente il diritto difesa alla previsione che, in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o più componenti del collegio, il nuovo giudice possa disporre la riassunzione della pena dichiarativa solo se lo ritenga necessario tutte le volte in cui la stessa è stata verbalizzata tramite videoregistazione. Bastava prevedere, come noi abbiamo proposto, ovviamente in ascoltati, che il trasferimento o il pensionamento del giudice avvenga solo al termine della trattazione dei processi assegnati. Con questa semplice misura si sarebbe risolto il 90% di questo problema. E ancora, viola certamente il diritto di difesa, l'inammissibilità dell'appello che voi prevedete, quando è proposto dal difensore dell'imputato assente che non sia munito di specifico mandato successivo alla data della sentenza. Norma questa particolarmente odiosa se si considera che inciderà soprattutto sugli imputati muniti di un difensore d'ufficio, cioè sui soggetti più deboli e con maggiore difficoltà di mantenersi in contatto con il proprio difensore. Vado avanti. Vedete, estendere l'ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena di tale minima fino a due anni – sono reati molto gravi, sottosegretario, lei lo sa – ci sembra un'estensione eccessiva che in astratto potrebbe rendere non punibili reati come ad esempio la calunnia, la falsa testimonianza, la falsità commessa dal pubblico ufficiale, il sequestro di persona, l'usura. Tutti reati che hanno una pena minima e di tale inferiore a due anni nel minimo. Difficile giustificare la non punibilità di reati di tale gravità. Potrei proseguire a lungo, ma per ragioni di tempo – e ringrazio per il tempo che mi è stato concesso – mi limito a un'ultima riflessione riguardante l'ulteriore impressionante ampliamento delle pene alternative alla detenzione previsto da questa riforma. Attenzione, nessuno contesta che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, come dice l'articolo 27 della Costituzione, che cito testualmente dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Ma secondo noi la pena deve conservare il suo valore deterrente e di difesa sociale, ciò che viene pregiudicato dal progressivo svuotamento della espiazione della pena. La funzione rieducativa, infatti, secondo noi, deve passare attraverso l'espiazione della pena, non attraverso la sua sostanziale abolizione. Se viene meno la certezza della pena, viene meno la sua funzione deterrente e si dilata sempre di più il senso di impunità di chi tende a delinquere. Questa riforma infligge un ulteriore vulnus alla già blanda funzione deterrente del nostro sistema penitenziario. Questa purtroppo è la realtà. Fratelli d'Italia vuole processi rapidi e giusti, ma in caso di condanna vuole anche pene immediate e certe. Voi state andando nella direzione diametralmente opposta, mortificando ancora di più le vittime dei reati e il sentimento di giustizia degli italiani onesti. Per tutte queste ragioni il nostro giudizio su questa riforma è purtroppo negativo.